Video un po' vecchiotto, quando la radio trasmettevano Wish You Were Here, The Blue Vertigo. Cercate un alimentatore regolabile, in casa ne avete uno sicuramente. Smontatelo fino ad arrivare alla scheda in fibra di ciccioli. Questi sono i pad di 5 resistori che ho rimosso e dove per ogni resistore c'è un valore di tensione in uscita. Bene, con una scatoletta di derivazione e la figurina di Rycard andiamo a sforacchiare la povera scatoletta perché lì metteremo tutti i componenti da pannello. Con lo sventrapapere togliamo l'adesivo in eccesso e poi mettiamo tutti i componenti. Adesso possiamo effettuare il collegamento elettrico. Per l'attenzione in uscita basta mettere diversi trimmer con valori omnici ricavati dai resistori e incollati dopo aver effettuato il collegamento con pistola al formaggio. Infine colleghiamole al selettore a 7 posizioni che potete trovare dal ginecologo. Fine, adesso potete avere quello che avevate prima ma spendendo soldi e tempo, però così è gargantuesco. Se anche tu hai creduto che Wish You Were Here è un brano dei Blue Vertigo, tanta cacca in entrambe le mani e tanti schiaffoni fino a pulirle. Dopotutto anche questa è cremeria. Grazie. 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 Grazie.